Nel 1900 il filosofo e teologo russo Soloviev compone un testo intitolato l'Anticristo. Al centro del testo Soloviev immagina un imperatore del mondo che per poter esercitare appieno il suo dominio in tutta la sua potenza necessita della Chiesa. Ma la Chiesa deve diventare ancella morale e spirituale del nuovo padrone e deve dunque, dice Soloviev, limitarsi a santificare la potenza planetaria del nuovo Signore del mondo. Una potenza planetaria priva di qualsivoglia richiamo alla trascendenza, del tutto esente da aperture al sacro e all'eterno. Nella descrizione delineata da Soloviev l'Anticristo è la figura che finge di rappresentare al meglio la cristianità quando in realtà sua contraffazione la capovolge dall'interno. In particolare il mondo in potere alla forza anticristica, in potere della forza anticristica, sembra di fatto prefigurare per molti versi nella narrazione di Soloviev l'odierna situazione del globalismo mercatista, quello che nell'enciclica Spe Salvi del 2007 Papa Benedetto XVI aveva definito come il progresso terribile nel male. Soloviev nel suo testo apertamente evoca un'Europa unites cristianizzata, un'Europa dimentica di sé, della propria provenienza e delle proprie radici. Una Europa ormai affrancata dal retaggio degli stati sovrani nazionali e delle identità storiche e culturali, delle tradizioni e di quell'identità europea che, come ricordava Novalis, è l'identità stessa cristiana dell'Europa. Cristianità o Europa era l'evocativo titolo del testo di Novalis nel quale il filosofo vagheggiava un ritorno a un'Europa basata sulla cristianità come era nel Medioevo. Soloviev chiama Stati Uniti d'Europa questa nuova configurazione demoniaca del vecchio continente che un tempo fu di Goethe e di Dante, di Platone e di Cervantes e che ora, spiega Soloviev, è solo un tempio vuoto e sdivinizzato, un tempio tecnicamente efficiente ma privo di qualsiasi contenuto spirituale e culturale. Il solo fondamento di questo nuovo ordine globale senza fondamenti in preda alle potenze anticristiche è per Soloviev la pulsione autoreferenziale all'unificazione del pianeta e all'occupazione di ogni suo angolo in balia del nuovo potere luciferino. Così scrive testualmente Soloviev nel suo testo sull'anticristo. Il nuovo padrone della terra era anzitutto un filantropo pieno di compassione e non solo amico degli uomini ma anche amico degli animali. Personalmente era vegetariano, proibì la vivisezione e sottoposi i mattatoi a una severa sorveglianza. La più importante di queste sue opere fu la solida instaurazione in tutta l'umanità dell'uguaglianza che risulta essere la più essenziale, l'uguaglianza della sazietà generale. Sotto le sembianze del nuovo signore del mondo l'anticristo dunque si presenta come autentico interprete del messaggio cristiano e proprio presentandosi come autentico interprete del messaggio cristiano spiega Soloviev l'anticristo lo sovverte dall'interno, lo stravolge, lo rovescia. Nei panni di un sommo filantropo umanitario l'anticristo invoca la religione con un unico scopo, quello di annientarla. Celebra Gesù solo come uomo, liberandolo da ogni riferimento alla trascendenza, non ha alcun richiamo al divino e al sacro, al regno dei cieli e a ciò che non è destinato a morire. Tu ci dai tutto tranne ciò che ci interessa Gesù Cristo, rinfaccia all'anticristo nel racconto di Soloviev il gruppo di veri uomini di fede che resistono alle seducenti sirene mortifere del potere anticristico. Così raffigurato l'anticristo è nel racconto di Soloviev un buon comunicatore, è un uomo mite, placidus è l'aggettivo nella descrizione classica che viene dato dell'anticristo. Si pone come comprensivo, come amante della salvezza, ma in verità dietro al vitrio teatro delle apparenze si nasconde una forza egoistica e dispotica, amante esclusivamente del potere e in preda al nichilismo. Il potere dell'anticristo sta nel citare il Vangelo, sì, ma nello sconvolgerne il messaggio, da che l'anticristo piega il Vangelo divino, il verbo di Dio, al suo progetto ideologico di sottomissione dell'intero pianeta. Nella descrizione operata da Soloviev l'anticristo si presenta come ecumenico, pacifista, ecologista. La fede soprannaturale con l'anticristo è ridotta la sequenza di valori umani condivisi dai più, incapaci di trattenere il potere dell'anticristo e anzi pienamente funzionali in ultima istanza a quel potere. Con l'anticristo delineato da Soloviev il cristianesimo diventa un mero messaggio politico del mondo e per il mondo. Nel racconto di Soloviev alla predicazione del potere anticristico ormai imperante si oppone lo star russo Giovanni e lo fa rivendicando con vigoria Cristo e la trascendenza. Giovanni si dice disposto ad accogliere il nuovo imperatore del mondo solo se questi saprà riconoscere Cristo come figlio di Dio. L'imperatore per parte sua, il nuovo signore del mondo, si oppone duramente fino a farsi livido ribadendo che dal suo punto di vista Cristo è solo un uomo grande, non è il figlio di Dio. Senza esitazioni Giovanni riconosce ora nell'imperatore le fattezze metifistofeliche dell'anticristo. Il suo tratto più peculiare sta ancora una volta nel proporre un cristianesimo despiritualizzato, detrascendentalizzato, un cristianesimo senza Dio e senza cielo, un cristianesimo basato sulla chiusura alla trascendenza, per usare una bella immagine impiegata da Giosef Ratzinger, un cristianesimo di pura e semplice immanenza e mondanità. Non ha più il sacro, non ha più il cielo, perché è tutto proiettato nell'immanenza del mundus completamente pervaso dal suo messaggio. Sotto questo riguardo si potrebbe leggere l'anticristo di Soloviev in relazione per certi versi con il testo di Robert Benson, il padrone del mondo, apparso nel 1907, quindi siamo proprio negli stessi anni. Nell'opera di Benson, il padrone del mondo, l'anticristo viene raffigurato e individuato nella figura, nella persona umana di Julian Felsenburg. Non è simile a Cristo come nell'affresco invece che troviamo nel Duomo di Orvieto del Signorelli, dove Signorelli raffigura l'anticristo come indistinguibile dal Cristo ma animato con un gioco pittorico dalla mano del demonio. No, l'anticristo di Benson è di fatto simile al vicario di Cristo del suo tempo, cioè Percy Franklin, l'alter ego di Papa Silvestro III. L'anticristo, suggerisce direttamente Benson, può tornare incarnandosi nella più insospettabile delle figure, quella del sommo pontefice. Certo, sono notevoli le differenze tra il racconto dell'anticristo di Soloviev e il padrone del mondo di Robert Benson e tuttavia in entrambe le opere si insiste sulla ferma opposizione che l'anticristo fa a ogni figura della trascendenza. Sia Soloviev sia Benson insistono sul fatto che la dissoluzione della Chiesa deve necessariamente avvenire mediante una sua rinunzia al cielo e mediante una sua convergente conversione integrale alla terra. Una siffatta conversione viene legittimata per il tramite di un astratto umanitarismo che prospetta l'omologazione del mondo e il superamento di tutte le differenze in chiave falsamente umanitaria. L'universalismo cristiano sotto il segno della fede in Dio viene così pervertito nel cattivo universalismo, come anche potremmo chiamarlo variando una nota formula di Hegel, nel cattivo universalismo dell'unificazione del pianeta in nome del potere mondano. Sia Soloviev sia Benson adombrano come la sdivinizzazione del mondo, per usare la bella categoria di Heidegger, Entgötterung, la sdivinizzazione del mondo e la dissoluzione della chiesa, si diano per spinta endogene, mediante una riforma interna della chiesa stessa. In altri termini, sia in Soloviev sia in Benson, la chiesa si nega dicendo di volersi evolvere, si suicida affermando di voler seguitare a vivere, a tal punto da non essere nemmeno più in grado di riconoscere la figura di Cristo, il figlio di Dio, e di metterla a morte nel caso in cui la incontri. E quanto insegna anche un altro classico della letteratura sul tema, che è naturalmente la figura, la leggenda del grande inquisitore raccontata da Dostoievski nei fratelli Caramazo. Il novantenne grande inquisitore, che come è stato rilevato non è il papa ma è un cardinale, fa immediatamente arrestare Gesù, nel frattempo ridisceso sulla terra. E così si rivolge a Gesù. Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure del tuo risentimento. Ecco, questo è il punto fondamentale, il punto fondamentale è il modo con cui il cristianesimo evapora, si dissolve grazie a potenze anticristiche che lo sovvertono dall'interno. Questo è un tratto comune di tutta la letteratura anticristica, direi, e soprattutto poi dei testi che abbiamo qui per sommi capi analizzato, quello di Benson e quello di Soloviev.